My friends, benvenuti, mi stavo aspettando, mi aggiravo qui nella boscaglia perché volevo farvi vedere una novità, una cosa nuova che non avete mai visto, un po' tenebrosa, ma avete sentito? Spazio in tutte le case dove io vado, se mi invitate a casa vostra io ve lo porto e ve lo piazzo sul tavolo anche se voi non lo desiderate, vieni, ah com'è lunga eh, vieni, 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 venite dentro, non ero io eh, sentite, sono terribili, è pieno, è pienissimo di topi, ma noi amiamo i nostri topi del gabbiotto dei topi, sono proprio fantastici, volevo far vedere però dell'altro, vieni, 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 gira, vieni, venite dentro, abbiamo, abbiamo, ah, un comodo divano, questo comodo divano è bellissimo perché diventa anche un divano, palo, 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 il pezzo forte, l'acqua del cane, il retro della cucina con pianta finta che ho chiamato Geremia, Geremia, Geremia e i cerotti per quando uno si fa male cercando di attrinzare la pianta finta, poi qui, attenzione, la stanza di Anna, che sto palpando per te. Youtuber italiano chiamato Leon Vughieff è ricercato per avere palpato la sua ragazza, inoltre risulta essere anche in combutta con l'anticristo, di cui l'identità è stata rilevata circa tre secondi fa, ovvero Nick Fepo, chiunque li vede si iscriva al canale. Questo bel buco, bel buco, pulito eh, questo è il buco che ci piace, ah, anche il retro, guarda che bello, però è questo il genere di buchi che ci piacciono perché sono netti, puliti, precisi, guardate che liscio, preciso, preciso, perfetto.